Ciao, vediamo un metodo infallibile per fargli sentire la tua mancanza. E' ovvio che se tu vuoi far sentire la tua mancanza a una persona, questa persona deve prima sentire la tua presenza, perché non può sentire la presenza se non sente la mancanza. E perché fargli sentire la mancanza? Per aumentare il desiderio nei tuoi confronti. Però devi tenere presente questo, che un po' di desiderio ci deve essere, un pochettino iniziale, ma il desiderio aumenterà quando viene tolta la possibilità del possesso. Cioè, per fare un esempio, se tu hai un'auto nuova, di tua proprietà, che puoi usare tutte le volte che vuoi, esattamente quando vuoi, senza nessun problema, inizialmente sarai contento di avere quest'auto, la possederai, la possederai, e proprio anche per la novità, diciamo. Ma dopo un po', quest'auto qua, certo, la guiderai lo stesso per necessità, ma non più per piacere, non ti darà più pathos, non ti darà più emozione. Ma se dopo, e che ne so, le prime settimane, il primo mese, che tu hai l'auto nuova in pieno possesso, per qualche strana ragione non puoi più possedere questa, non puoi più guidare quest'auto tutte le volte che vuoi, ma hai disponibilità dell'auto, non so, mezz'ora a settimana e basta. Un'ora a settimana. Allora, quell'auto lì inizierai a desiderarla ancora di più di quando era proprio nuova, nuova. E per quel motivo? Perché hai goduto, diciamo così, di un bene e poi questo bene ti è stato tolto. E allora, in quel momento lì, sentirai proprio l'esigenza di possederla, l'esigenza di averla, il desiderio. Ne sentirai la mancanza. E passerai tutta la settimana a pensare a quell'auto, a quando ci sarà la tua mezz'ora per usarla. Perché magari nel frattempo la usano anche altri. E allora, quindi per farsi desiderare, bisogna prima dare una sensazione di possesso, una sensazione di presenza. Il love bombing è un'ottima tecnica perché prevede di, diciamo, di mandare tanti messaggi di affetto, mandare messaggi di presenza, quindi tanti complimenti, essere presente, disponibile, messaggi d'amore, in modo tale che lui poi, quando, o lei, quando tu inizia a togliere, inizia a sentire la mancanza. Quindi, prima love bombing, quindi bombardamento d'amore, e dopo gradualmente togliere, in quel momento lì che sentire la mancanza. E anche se all'inizio non era coinvolto nei tuoi confronti, dopo lo sarà. Perché l'immagine della perdita, quando si erge forte all'interno di un essere umano, dà i suoi risultati. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!